Dopo Monte Carlo e il Canada, circuiti cittadini con il ritorno su piste vere come Silverstone come questa ci si aspettava di vedere una Ferrari più forte e invece non è successo così, perché? Ma io credo che effettivamente nelle ultime gare non l'abbiamo portato a casa dal punto di vista della prestazione quello che ci attendavamo, quindi quello che posso dire è che sicuramente i punti raccolti in questa fase del campionato sono punti, vedendo il bicchiere mezzo pieno, importanti in una prospettiva dove dobbiamo assolutamente fare quel miglioramento della vettura che i nostri principali concorrenti hanno fatto e che noi non abbiamo ancora portato a termine quindi questa è la lettura in maniera sintetica di quello che sta avvenendo in questa fase del campionato. I problemi sulla macchina sono di tipo meccanico o pensi che dovete migliorare soprattutto l'aerodinamica? No, io credo che quando si analizza una prestazione bisogna valutare tutti questi elementi abbiamo visto, e non solo per noi, quanto la variabilità delle temperature porti a livelli di prestazione diversa e quindi sicuramente questo è un elemento che dobbiamo cercare di capire meglio e sicuramente dobbiamo poi sviluppare la macchina perché credo che meccanicamente la vettura sia abbastanza solida. Con le nuove gomme posteriori che avevate qui ci sono squadre che hanno incontrato difficoltà e altre che sono salite come la Lotus. Io credo che la Lotus sotto il profilo della gestione degli pneumatici ha sempre dimostrato di essere una squadra che dall'inizio del campionato ha lavorato molto bene Il vero passo credo che lo vedremo dal prossimo Gampremio dove avremo l'introduzione di strutture ISO 2012 con le mescole 2013 e quindi lì capiremo davvero quale sarà la situazione come sapremo come vetture interpretare questo cambiamento è chiaro che può essere un elemento di discontinuità importante e c'è bisogno di lavorarci sopra da subito perché siamo più o meno a metà del campionato e quindi abbiamo bisogno di affrontare una seconda parte all'attacco perché i nostri obiettivi non cambiano di certo. Nella prossima settimana c'è un test a Silverstone che a questo punto diventa molto importante. È un test dove credo che si stia ancora definendo esattamente come dove quando dal punto di vista del programma però è un test dove la valutazione di questa nuova gomma sarà importante proprio in chiave di interpretazione di come questo tipo di pneumatico si addice alla nostra macchina ed eventualmente correggere un pochettino quelle che sono le caratteristiche della nostra vettura. Avete già stabilito il programma dei piloti se ci andrà Felipe Massa o Fernando Alonso? Non ancora, ne parleremo questa settimana anche perché dobbiamo ancora capire la sequenza dei giorni il tipo di programma che la Pirelli vuole fare quindi lo affronteremo questa settimana. Per quanto riguarda Felipe Massa c'è stato un problema sulla macchina o si è trattato di un errore? No, io credo che in una fase della gara dove Felipe doveva attaccare con un set di gomme che non aveva particolarmente grippe sia per lui che per Fernando credo che nella fase di scalata abbia perso la vettura. La prossima gara sarà a Budapest su un tracciato molto diverso da questo molto più lento e poi anche le temperature saranno altissime quali sono le tue previsioni? Difficile per vedere è chiaro che le temperature giocheranno un ruolo molto importante ma dobbiamo capire come reagiranno questi nuovi pneumatici in Ungheria è una pista dove c'è bisogno di tanta trazione dove abbiamo bisogno quindi dal nostro punto di vista di lavorare molto sull'assetto della vettura considerando le caratteristiche aerodinamiche che a questo punto soprattutto in ottica in Ungheria non dovrebbero cambiare. Ultima domanda in Ungheria saremo al giro di boa del mondiale il distacco però è considerevole pensi che comunque sia ancora tutto aperto in chiave mondiale? No, assolutamente sì mi ricordo a me benissimo l'anno scorso dove noi prima della pausa estiva avevamo 50 punti di vantaggio su Vetter e sappiamo tutti cosa è successo quindi noi siamo adesso mi sembra a circa 34 punti quindi è un distacco sicuramente importante ma è tutto in gioco, tutto è aperto abbiamo visto più di una volta e l'esperienza delle competizioni ci insegna che bisogna stare lì attaccati fino all'ultimo però è chiaro che dall'altra parte dobbiamo sviluppare la macchina perché è l'elemento fondamentale su cui poter ovviamente puntare per attaccare fino in fondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti